T하면 Revisore Revisore D. V. Klick Revisore Mettiamo che alla donna venga l'iniziativa... Non mi sono portato queste a posto. Mettiamo che alla donna venga l'iniziativa... Iniziativa sessuale. È impossibile! Non ce la daranno mai la soddisfazione Mai In quarant'anni, mai Mai una volta Mai, mai, mai Mettiamo per assurdo Che la donna venga Per assurdo Se vuole trombare la donna Tutto gli passa Di qui Niente di qui Ti dà un modulo, una matita E se ne va Ti sei lavato? Potresti dimostrarlo? Segnia con una crocetta Le parti del corpo Che ti sei lavato meglio Il letto Il letto Il letto dovrebbe essere Rispetto a tutto il mondo Il posto dove noi Dovremmo, con tante M Godere di più Il posto della goduria Ecco, lei è lì traslucida Tu fiammante Sai per saltarle addosso? No? La bajur La metti in terra? Ma sì Eh, la luce ora è un po' troppo radente La spegni? Ma sì Mi accendi La luce del corridoio? No, è troppo angolare Lascia tutto spento Dai Spegni tutta la casa Lasciamo fuori la luce del lampione Non è romantico? Sì? Eh, ma è un po' troppo forte Perché non butti una maglietta sul lampione? Lampione Perché ha 30 metri il lampione E non sono Spiderman Allora fai così Apri la porta di casa E mi accendi la luce delle scale Tanto che coglioni Ti sei fatto una treccia Amore La luce delle scale Dura tre minuti E poi si spegne E lei Pensi durare di più? Dura tre minuti Grazie Grazie Grazie